di essere il presidente di questa splendida orchestra che questa sera è sostenuta e corroborata da tante altre realtà che adesso viene in caro. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti quanti voi per essere qui con noi questa sera per ascoltare questo autentico monumento della storia della musica che è la nuova sinfonia di Vito Vanna. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.